che bella musica oggi che c'è qua a la pasta spaghetti oggi ovviamente pure la guina ma a me piace poi spaghetti ma questa ricetta facciamo la pasta alfredo che lo succo bianco una cosa magnifica ma magnifica ascoltate ascoltate ma per fare la salsa prepariamo il burro e olio aggiungere tanti olio una tavola e mezzo di burro e olio normale non faccio chiamare un fuoco ma a questo punto visto che cosa s'acquagliato il burro ci metto la crema e il 18% a questo tempo prepariamo l'acqua per la pasta a bollire è così ora ci mettiamo sale e pepe sale ok e pepe e pepe ok e ci metto pure un po' di garlic, agli e borbara per ci dare un po' di sapore mmm come è buono a questo punto ci mettiamo vino bianco un bicchiere e basta ok basta e dopo si romina cioè seguiamo l'ultimo una salsiccella ah bella questo punto eh vuoi come è bella questa salsiccella ah e ora a me piace mettere qui sono pochi di zucchero qui poco poco zucchero per ci dare un bello sapore e ora proviamo ah e come sta ah ah scusami amore 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 mio com'è buona ah bella 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 eh vai lasciare un fuoco ah che bella guarda che bella salsiccella ma ancora basta l'acqua per la pasta ancora da bollire adesso ci mettiamo un po' di acqua eh acqua mangia qua adesso poco buono e ci daremo una bella romagnata ah eh che bella salsiccella eh ecco si a questa parte a questo punto ci mettiamo la pasta colofreddo ah io faccio i spaghetti ah ecco si ecco si ecco si ecco si ecco 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 e questo vedo tutto assieme perché bella che bella che bella basta ci aggiungiamo poco a poco hai visto che bella guarda che bella ma a questo punto ci mettiamo pochi di parmigiano io sopra ecco si non ce ne metto ma questa volta siete speciali ci mettiamo pochi di parmigiano ora facciamo riposare per un pari minuti che la sassicella guarda che bella anche è tutto pronto guarda che bella va come creamy che cremosa cremone e questo è spaghetti alfredo scusate è questa è la mia c'è a mezzo io buon appetito che bella pasta ecco la pasta alfredo alla panna enjoy eh ma dammi una cosa fa una cosa buona eh click on subscribe and click thumbs up buon appetito see you next time ah ci vediamo domani